Esattamente, lo slogan del programma è cambiare la vita e aprire la mente. Questo è l'obiettivo del programma Erasmus+, un programma che ha riunito quelli che in passato rappresentavano programmi diversi, programmi che riferivano ad ambiti dell'istruzione, della formazione professionale, della formazione e dell'istruzione formale, non formale e con gioventù anche dell'informale. Soltanto qualche slide per ricordare a tutti quali sono i riferimenti che questo progetto ha con le policy dell'Unione Europea. A partire da Europa 2020 ci sono delle priorità sul tema dei green job e quindi la crescita intelligente, la crescita sostenibile e la crescita inclusiva. Crescita intelligente attraverso un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle diverse risorse e crescita inclusiva per promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. Tra gli obiettivi di Europa 2020 ricordiamo che i traguardi in materia di clima e di energia devono essere raggiunti, compreso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono. Quindi questo richiamo continuo alla necessità di una crescita sostenibile anche dal punto di vista dell'impatto ambientale. Ricordo tra le sette iniziative FARO di Europa 2020 l'iniziativa Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, quindi con l'obiettivo di contribuire a scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, finalizzata a far sì che l'economia, quindi lo sviluppo, la produzione sia sempre di più con un'attenzione all'impatto ambientale, quindi sempre di più all'uso di energie rinnovabili. Perché le figure green? Perché i professionisti devono poter accedere ad opportunità di lavoro che vedono nel settore dell'economia green, della green economy, un innalzamento della domanda. È stato detto da tutti coloro che mi hanno preceduto. È un settore in crescita, un settore in espansione. E quindi anche la possibilità di figure professionali di poter essere riqualificate e quindi essere rilette in una chiave green, ma anche professionisti che lavorano a diretto contatto con le tecnologie verdi. Però io sono qui per parlarvi del programma Erasmus Plus e per parlarvi dell'esperienza della mobilità. E quindi che cos'è una mobilità trasnazionale? E soprattutto come viene intesa una mobilità nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale? Perché l'agenzia che dirigo e rappresento oggi è l'agenzia del programma Erasmus Plus che ha sede presso l'ISFOL e che è quella che specificatamente si occupa dell'ambito istruzione e formazione professionale. Quindi la mobilità deve essere intesa come una componente integrante, una componente fondamentale della libera circolazione delle persone. Ed è un elemento essenziale proprio perché si possa parlare dell'Europa come di uno spazio unico, come di uno spazio che consente a tutti i suoi cittadini di muoversi per formarsi, per viaggiare, per lavorare e quindi per favorire lo sviluppo di un'Europa basata sulla conoscenza. Che cosa non è una mobilità trasnazionale? Sicuramente non è uno spostamento casuale, sicuramente non è qualcosa di spot, ma deve essere visto come un percorso che si inserisce all'interno di un progetto più articolato. Coloro che hanno un'esperienza di mobilità o meglio di progettazione finanziata nel campo della mobilità in ambito VET potranno beneficiare facendone richiesta della cosiddetta carta della mobilità. La carta della mobilità non è altro che un titolo che viene riconosciuto a tutti quegli organismi che hanno sviluppato progetti di mobilità chiusi negli ultimi tre anni, quindi progetti finanziati, che progettando, inserendo il loro percorso di mobilità all'interno di una strategia di lungo periodo, hanno la possibilità di vedersi riconosciuto in futuro, la possibilità di accedere al programma con una linea preferenziale. E quindi la necessità di inserire i propri progetti di mobilità in un percorso di medio e lungo periodo. L'obiettivo di Erasmus Plus, e quando parlo di Erasmus Plus intendo però tutto il programma, quindi tutti gli ambiti, è quello di raggiungere come target di persone che avranno avuto un'esperienza di mobilità di 4 milioni. Quindi 4 milioni di persone, di cittadini europei avranno la possibilità di ottenere un finanziamento per studiare, formarsi o lavorare all'estero, in un paese diverso dal proprio. Per dirvi quanto pesa la mobilità nel programma, tutto lo spazio che vedete in blu è lo spazio che nel programma hanno i fondi destinati alla mobilità. Come vedete è la fetta in assoluto più consistente. Senza dimenticare che a questa grossissima fetta si aggiunge una parte di quella fetta che vedete in rosso, perché all'interno delle azioni chiave 2 sono state inserite anche opportunità di mobilità strettamente funzionali allo sviluppo delle attività progettuali di questa diversa tipologia di azione. Che cosa si fa attraverso un progetto di mobilità? Innanzitutto un progetto di mobilità vuole migliorare le competenze di coloro che accedono alla mobilità. Ampiare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali in materia di istruzione e formazione professionale, ma anche di gioventù, perché questi sono gli obiettivi dell'azione in senso lato. Rafforzare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento, favorire la modernizzazione e l'internazionalizzazione delle istituzioni che accedono al programma, in particolar modo le scuole, e promuovere l'attività di mobilità dei discenti. Questo per darvi un piccolo spaccato di quanti sono gli studenti, lo staff, i giovani che sono partiti o che partiranno nell'ambito dei progetti finanziati nel 2014 a livello comunitario. Quindi a livello comunitario i progetti finanziati nel 2014 promuoveranno circa 656.458 mobilità, rivolte come vedete in funzione dell'ambito a target diversi ma sostanzialmente giovani. Questo è invece il nostro piccolo, il contesto nazionale, sempre distribuito per i diversi ambiti del programma e come vedete la parte in giallo è quella in cui è inserito il progetto di cui oggi stiamo raccontando e narrando l'esperienza. Per il 2015 abbiamo soltanto dati nazionali e i dati nazionali dicono che abbiamo finanziato nel 2015 82 progetti che muoveranno circa 7.284 giovani prevalentemente e una piccola parte di staff. Ma che cos'è un'esperienza di mobilità calata in ambito VET, calata in un contesto di istruzione e formazione professionale? È sicuramente un'esperienza lavorativa che va agganciarsi ad una esperienza o meglio ad un percorso di istruzione e formazione professionale. Quindi è un percorso di lavoro che viene, il lavoro e studio, che viene affiancato ad un inserito calato all'interno di un contesto di istruzione. Che cosa si propone di fare un progetto di mobilità? Di produrre un impatto sicuramente ma non soltanto su coloro che partecipano attivamente, quindi su coloro che si spostano, che usufruiscono della mobilità, ma di avere anche un impatto sulle organizzazioni che partecipano al progetto a diverso titolo e un impatto sul territorio. Molto correttamente il Presidente di Estra ha parlato questa mattina della necessità di ridurre il mismatch tra quelle che sono le competenze dei nostri giovani e quelle che sono le richieste delle imprese. Ecco, l'obiettivo e soprattutto, un altro richiamo fatto sempre dal Presidente, è la necessità di lavorare e sviluppare e accrescere le competenze delle risorse umane perché attraverso la crescita delle competenze professionali delle risorse umane si ha la crescita del territorio. Quindi voglio soltanto richiamare la vostra attenzione su queste due ultime slide e poi mi fermerò. Che cosa raccontano i ragazzi? Prima con molto interesse ascoltavo i ragazzi che sono stati intervistati. I ragazzi dicono che è in assoluto la prima importante esperienza lavorativa, che per loro è un'opportunità per iniziare a pensare da professionista, non più da studente, per questo che ho chiesto loro che cosa avete provato al ritorno a scuola e loro tutti mi hanno detto che il loro ritorno a scuola è stato molto diverso. Vivere la scuola dopo un'esperienza di mobilità è vivere la scuola in modo diverso, più responsabile, con un occhio puntato a quello che la scuola ti sta dando, che tu già vedi in un'ottica di impiego, quindi di opportunità professionale. Ma hanno detto anche qualcosa di negativo i giovani, ovviamente intervistati, che l'esperienza a volte è troppo breve, che a volte ci sono delle situazioni di contesto che richiedono una capacità d'attiva molto alta, a volte anche la difficoltà di comprendere in breve tempo quelle che sono i compiti in un'altra lingua e quindi la capacità di apprendere molto velocemente, a volte anche la necessità di dover integrare la borsa con i propri fondi e poi alcuni problemi di carattere logistico. E qui infine abbiamo cercato di raccogliere quelli che sono invece i loro suggerimenti, quindi suggerimenti che loro danno ai ragazzi che hanno voglia di partire, non soltanto i suggerimenti che danno ad un'agenzia nazionale che li finanzia e quindi la necessità di cogliere l'opportunità e tutto quello che si presenta nel momento in cui sono calati in questo nuovo contesto, in questo contesto diverso. L'importanza di imparare bene una lingua straniera, lo sviluppo di capacità adattive e soprattutto di non arrendersi di fronte ai mille diversi ostacoli che si possono incontrare. Se siamo veramente in dirittura d'arrivo vorrei soltanto mostrarvi quest'ultima slide. Che cosa ci aspettiamo come agenzia nazionale una volta che i ragazzi saranno tornati dalla loro esperienza? Innanzitutto un'attività di follow up, quindi la necessità di accompagnare il processo di ritorno e soprattutto di monitorare il processo di ritorno. Sicuramente questi ragazzi avranno una minore possibilità di essere dei drop out, saranno dei ragazzi che avranno una maggiore determinazione a concludere i loro studi e quindi chiediamo agli organismi ai quali abbiamo finanziato i progetti di monitorare e di fornirci dati su questo perché l'esperienza non deve essere solo un'esperienza utile a loro ma un'esperienza utile soprattutto per il territorio in cui loro andranno a spendere le loro competenze. Questo soltanto per mostrare l'area del nostro sito che consente a chi è interessato ad accedere al programma di identificarsi in una delle diverse tipologie di soggetto e andare a vedere quali sono le opportunità che il programma offre ad ampio raggio per tutti. Grazie mille. Grazie. Grazie dottorista. Grazie.